Ciao a tutti, ben ritrovati! In questo video vi presento un racconto molto breve da trasformare in movimenti che ha come protagonista delle lettere. In questo modo i bambini possono familiarizzare con le lettere semplici, la O, la L, la T, la X e provare a prendere la forma di queste lettere attraverso il corpo. Un'attività semplice da fare anche a casa oppure all'aperto unendo narrazione, apprendimento e soprattutto tanto movimento fisico. Come sempre buona visione e buon divertimento! A presto! Le avventure della lettera O. C'era una volta una piccola e rotonda lettera O che viveva in un bellissimo bosco. Un giorno decise di esplorare il paesaggio attorno e cominciò a rotolare, a rotolare, fino a quando urtò contro un albero altissimo. Appena toccò l'albero, la lettera O cominciò ad allungarsi e a crescere, a crescere, fino a quando diventò una bellissima lettera, lettera T, che attraversò il bosco camminando in punta di piedi, girando e canticchiando. Tipeteta, petetipeteta, petetipeteta, petetipeteta. Ad un tratto la lettera T incontrò l'uomo dei palloncini che appena la vide disse, sei così magra e così alta, aspetta che ti gonfi un po'. Così soffia un po' di aria nel suo braccio destro, poi nel braccio sinistro, poi ancora un po' nella gamba destra e poi sinistra. Wow! La lettera T si era trasformata in una bellissima X che cominciò a fluttuare nell'aria proprio come un palloncino. E mentre volava spensierata a un tratto si punse, scoppiò e cadde distesa sul prato. Si trasformò in una sinuosissima S e cominciò a contorcersi da un lato e dall'altro fino a trasformarsi in una lunga lettera I. La I si ritrovò su un terreno fangoso, strisciò con tutto il suo corpo ma non voleva finire con il viso nel fango e così sollevò la schiena e la testa. Quando la lettera I fu stanca di strisciare si alzò e si scrollò di dosso tutto il fango che si era appiccicato addosso e si trasformò in una bellissima lettera H. Saltò su un piede e poi sull'altro ridacchiando. Stanca di saltare la lettera H si mise seduta e si trasformò nella lettera L. Si guardò intorno e notò un prato così bello di un colore verde luminoso che si trasformò nella lettera O e cominciò a rutolare fino ad addormentarsi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.